Allora Roberto, analizzando la partita c'è stato un momento, soprattutto nel finale del secondo set in cui con un po' di esperienza di Manizia in più si poteva vincere, magari avessi vinto la lume lo stesso, però avrebbe cambiato un po' il corso del match. Assolutamente, c'è un po' di ramano, infatti per quel secondo set, in un video check hanno fatto il loro punto. Sicuramente loro sono stati molto più cinici nel momento giusto, infatti si è vissuto e hanno vinto 25-23. Però noi abbiamo fatto la nostra partita e siamo soddisfatti. Nonostante la sconfitta, comunque continua il bel percorso di crescita di questa squadra, che anche oggi ha confermato di avere buone qualità e un percorso che c'è il corso e un ben tracciato. Assolutamente sì, naturalmente non sono queste le partite, se vi arrivano punti meglio, però le partite in cui noi dobbiamo puntare sono alte e sicuramente facendo bene qui e lavorando ad alto livello si arrivano i risultati.